Anni fa veniva tutte le macchine, fino alla panetteria, via Cavour eccetera eccetera Stefano com'è Busto stamattina? Insomma Busto is beautiful Ma questo è un grattacielo, una specie di grattacielo diciamo E poi non è per dire, le ragazze di Busto sono belle Ecco ecco, lo Stefano, quindi se qualcuno cerca l'amore vero lo Stefano è libero, quindi fattivi avanti Ah vabbè dai, senso buono, comunque lo Stefano è un tipo serio quindi cerca una storia seria Sì sì, quello di sicuro, sono fedele io, sono fedele Oh vedi Non sono un farfallone Come certi farfalloni che ci sono in giro da spiaggia Sì sì, non sono già ricalato Sì, vabbè lasciamo perdere ma Salute a tutti